L'avreste mai detto che questi nuggets sono vegetariani? E li ho pure cotti in forno! Possiamo gridare al miracolo, vero? Cuocete i ceci! Io li ho cotti a pressione con la fry cook di Master Pro by Carlo Cracco per farli venire ancora più tenere. Una volta pronti, frullateli con la secola di patate, l'uovo e il lievito. Riponete il composto in frigo per 20 minuti e poi formate i nuggets. Passateli nell'uovo sbattuto e nei cornflakes spriciolati, adagiateli in una teglia e cuoceteli in forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti. E... tada! Saranno pure leggeri, ma sembrano boni, vero?